Comincia a prendere forma il roster della Delfa e Saverino per il prossimo campionato di Serie A2. Il nome nuovo sul taccuino del direttore generale Antonello Nevola porta l'esperto lungo croato Tomislav Zubic. Il 34enne ha chiuso la stagione con 14.0 punti e 5.6 rimbalzi di media partita. Zubicic ha giocato in tutte le rappresentative giovanili della nazionale croata Under 16, 18, 19 e 20 ed ha ottenuto il bronzo con la Croazia Under 18 agli europei e con l'Under 19 ai mondiali del 2009. Dal 2017 gioca nella nazionale della Croazia. La società irpina nei giorni scorsi ha annunciato un doppio innesto. Mick Yurkman e Lucas Maglietti. Il primo è un giocatore di formazione italiana avendo svolto il settore giovanile in Italia tra Bologna, Sponda Virtus e Ravenna. Un esterno in possesso di un buon tiro dalla lunga distanza che è in grado sia di ricoprire il ruolo di guardia che di ala piccola. Coach Clotti e Nevola hanno deciso di puntare sul ragazzo che conosce il campionato italiano che non andrà ad intaccare lo slot stranieri. Il secondo è un elemento interessante. Italo-argentino la scorsa stagione si è contraddistinto con la bacchia di Piacenza. Ha grandi margini di crescita ed è un giocatore fisico. Il cessista argentino si è detto soddisfatto della scelta, convinto ad accettare Avelino non solo dalla vetrina della 2 ma anche dai buoni consigli della gente. Pablo Figlioi, fratello di Ariel, ufficializzato nei giorni scorsi dalla Libertà Silvorno che in Irpinia ha anche il Lucas Fresno, già compagno di squadra di Maglietti alla Stella Azzurra. La prossima settimana la società guidata dal presidente Giuseppe Lombardi annuncerà il rinnovo con Fresno e Riccardo Chinellato. Non solo mercato, le prossime settimane saranno decisive anche per il cambio di denominazione ma anche per lanciare la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie A2.